Andrea che prende un gol da rinvio da portiere insomma fa un po' rabbia no? Per chi lo subisce Sì magari il difensore su Cassano doveva far battere la palla e poi da lì è stato bravo Rossi a vedere Marchiso che si è inserito nel barco giusto e quindi sì all'inizio magari c'è stata un po' di ingenuità difensiva però poi alla fine si è stati bravi noi Marcello Lippi in settimana ha detto mi sono mancati gli unici due fuoriclasse che avevo un anno fa in Sudafrica Pirlo e Buffon tu che vuoi dire? No purtroppo è stato un grande rammare